L'errore del codice 126 riguardo a Counter Strike 2 può essere a causa dell'antivirus che ti blocca alcuni file nella sua cartella. Quindi in questo caso quando l'antivirus ti blocca e ti elimina dei file nella cartella del gioco e non riesci ad avviarlo perché mancano alcuni moduli, è possibile sempre fare una verifica al gioco, quindi gestisci. Se andiamo direttamente su proprietà, file installati, verifica integrità dei file del gioco, fate una verifica e ripristinerà quei file. Se ti dà fastidio questo problema qua, possiamo sempre dare un'eccezione alla cartella di Counter Strike tramite Windows Defender. Quindi se andiamo direttamente sul nostro scudo Windows Defender qua, ci clicchiamo sopra, andiamo su protezione da virus e minacce, scendiamo fino a giù fino a trovare, gestisci impostazioni, esclusioni, aggiungi o rimuovi, esclusioni. Entriamo così nella cartella delle esclusioni, come puoi vedere io ho messo già varie cartelle, quindi andiamo direttamente nella cartella del gioco, quindi andiamo sulla rotella gestisci, foglia e file locali ed eccoci qua. La cartella si trova nel mio disco volume E, libreria di Steam, Steam Maps, Como, Counter Strike, Global Offensive. Qua sopra si trova la cartella. Quindi vado su Windows Defender, aggiungi un'esclusione, cartella, vado su volume E, vado sulla libreria di Steam, Steam Maps, Common ed eccola qua, Counter Strike, Global Offensive. C'è sia Counter Strike 2 che CSGO qua dentro. Seleziono la cartella e l'ho messa nelle esclusioni. Se non dovesse bastare, possiamo sempre fare di nuovo la verifica, proprietà, file installati, verifica, integrità dei file del gioco. E giochiamo a Counter Strike. Ecco che il gioco si è avviato, quindi senza nessun problema. Per altri problemi ancora puoi sempre guardare la playlist di Counter Strike in alto a destra, di cui ho fatto tutorial su parecchi errori, anche sul Valve anti-sheet, se in questo caso non si avvia. Per altri problemi ancora, commenta sotto al video. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!